Fatican, ma tu proprio no devi andare nel gabinetto? Eh, mi dispiace, quissà? Poi, abbiamo... Preside, questi ragazzi... Ma son senza speranza... Madonna, come sei disfattista! Possono diventare politici! Ho invitato una classe di Accra... Capitale del... D'Ana... A partecipare insieme alla festa dei giovani della Valborcia... Cerca l'indirizzo, posso stare in città... tranquilla forse cercavi a cerra se ciao ciao gana voi del nord la dovete finire con questa spocchia che tenete un padre missionario e per giunta italiano splendido a proposito padre come dio chi sa vede voi un gesù ottimo bene bene come noi ci divertiremo un sacco i toscani sono gente ospedale benvenuta a africa no scusi scusi chi risarcisce i familiari delle vittime piace molto il tuo modo di rapportarti ragazzini in fondo di sicurezza ma sono solo dei bambini idealista avanti un altro andiamo su che l'enquente vai è iniziato lo scambio grande dante alighieri ha scritto la divina commedia chi ha costruito il cavallo di troia secondo me la cosa più importante rimane la voglia che un insegnante ci mette anche la voglia di imparare dai propri alunni in fila per tre no random praticati sai cosa vuol dire random a cazzo di cane a cazzo di cane bene benvenuta